Professore Francesco De Giovanni è il direttore di Algoritmica, una collana di matematica e informatica che è nata nel 2015 e che attualmente ha pubblicato quattro volumi. Nel comitato scientifico oltre al professore De Giovanni ci sono altri scienziati dell'ambito dell'algebra, della geometria e cioè Adolfo Ballester Bolinches, Maria De Falco, Giuliano Laccetti, Maria Longobardi, Nicola Melone e Carmela Musella. Nel panorama variegato delle collane di matematica, di algebra, perché ha sentito il bisogno, la necessità di questa nuova pubblicazione? Sì, questa collana è nata credo due anni fa se non sbaglio e lo scopo della collana era poter avere una serie di monografie, piccole monografie, sia su temi specifici di livello universitario, non diciamo dei primi anni ma di livello un po' più avanzato, sia piccole monografie che fossero di avviamento alla ricerca, cioè sviluppare dei temi magari adatti ad un corso di dottorato nel sistema italiano, universitario italiano e inserire questi temi di carattere matematico e informatico in questo ambito, cioè avere una serie di monografie di questo tipo. Le quattro monografie che sono apparse fino a questo momento rispondono esattamente a questo requisito. Sì, infatti tra le quattro monografie la prima è dal titolo Some Topics in the Theory of Group with finite coniuglianzi classes, il secondo algebra per informatica, la terza i dati umani, la quarta rappresentazione di gruppi, un'introduzione. Ecco sì, forse posso spettare una parola su questo, la prima di cui usano uno degli autori è una monografia proprio di avviamento alla ricerca su un settore specifico dell'algebra. Che è quello della teoria dei gruppi. Sì, esattamente. La seconda, se non sbaglio, è algebra per informatica, invece è un manuale ad uso degli studenti universitari di informatica che hanno necessità di apprendere una certa quantità di informazioni algebrico-geometriche. Poi invece mi sembra dati umani la terza. Dati umani. Questo è interessante perché è un volume che si inserisce, inserisce sistemi di carattere matematico in conoscenze di altri ambiti, di ambito più umanistico. Diciamo l'utilizzo della matematica o dell'informatica in altri ambiti. Ed infine mi sembra c'è un volume di teoria della rappresentazione, un'introduzione della teoria della rappresentazione che è manifestamente un corso per un dottorato di ricerca, sempre in ambito algebrico. Particolarmente importante mi sembra il volume numero tre, quello sui dati umani, cioè l'apprendimento automatico è una delle più importanti aree dell'intelligenza artificiale. Certamente. Certamente questo, come citavo già prima, è importante perché l'apprendimento automatico, oggi con l'evoluzione tecnologica estremamente avanzata, è un aspetto primario in certi ambiti della conoscenza. Oggi è pensabile, ci sono sistemi di dimostrazione automatico, anche in matematico e in altre discipline, cioè è pensabile fornire ad un sistema una certa quantità di informazioni che il sistema non può capire, ma prende soltanto come affermazioni e riuscire ad elaborare da queste affermazioni delle conseguenze. E' chiaro, penso che possa apparire abbastanza chiaro, il tipo di ricadute che si può avere anche in ambiti che non siano di carattere matematico o informatico. Infatti qui, se non vado errato, proprio in questo volume sui dati umani si parla molto dei big data. Certo, sono sistemi informativi molto grandi che permettono poi ricadute in altri sistemi cognitivi. C'è un volume in uscita per questa collana? Ci sono dei volumi che sono sotto l'esame perché la collana funziona in un modo rigido dal punto di vista culturale, nel senso che ogni volume che viene proposto alla RAC e quindi alla collana viene passato al vaglio di referis che ne valutano la correttezza e l'interesse in questi ambiti. Dunque un volume prima di essere pubblicato viene in qualche modo giudicato? Non userei il termine giudicato, ma direi piuttosto garantito rispetto alla sua pubblicabilità. E la garanzia è dovuta? È un referaggio, è un sistema tipico del mondo scientifico. Cioè ci sono degli esperti che ne leggono il testo, il testo originario e quindi o lo rispingono se il testo non è sufficientemente qualificato dal punto di vista scientifico o lo accettano così com'è o proponendo le modifiche che siano migliorative. Quindi un referaggio anche per delle miscellanee all'interno di una collania anziché di un articolo per una rivista. Certo, il sistema è sostanzialmente questo. E quindi dovrebbe garantire anche il lettore rispetto a quello che trova, certo, sicuramente. Perché è chiaro che sarebbe estremamente rischioso pubblicare al buio, si possono trovare delle sorprese rilevanti. Invece è necessario il compito di referaggio e garanzia perché una collana possa definirsi una collana seria. Io ringrazio la Aracne per aver accettato che questo sistema fosse applicato ad algoritmica. Allora, grazie a lei, professor Francesco De Giovanni. E alla prossima puntata. Grazie a lei. Grazie a lei.